Intense le attività volte al controllo e alla ricerca di migranti irregolari che sono state eseguite nei mesi estivi, in particolare da Ferragosto in poi, dai carabinieri del locale comando provinciale che hanno svolto l'attività sia lungo il litorale costiero agrigentino sia sulle isole di Lampedusa e Linosa. Le ricerche espletate solo nei territori di Portempedocle di Lampedusa e Linosa hanno consentito di rintracciare oltre 150 migranti. I militari fanno inoltre sapere che negli ultimi giorni sono otto gli sbarchi improvvisi verificatisi fra Real Monte Siculiana e nel tratto di costa ricadente nel comune di Ribera. Altri due sbarchi sono avvenuti rispettivamente uno a Siculiana e l'altro in località Piana Grande di Ribera, con conseguente tracciamento di 20 migranti e sequestro di due imbarcazioni. Ancora sull'isola di Lampedusa tra giugno e fine agosto sono complessivamente avvenuti 45 sbarchi con l'arrivo di oltre 1200 immigrati, mentre sull'isola di Linosa sono avvenuti 5 sbarchi con l'arrivo di oltre 100 immigrati. Per far fronte a tale fenomeno il comando provinciale ha messo in azione numerose pattuglie delle stazioni carabinieri che hanno garantito in ogni caso il primo intervento supportate dai nuclei operativi delle compagnie di Agrigento e Sciacca. I migranti bloccati dopo essere stati sottoposti alle operazioni di identificazione e fotosegnalamento sono stati accompagnati presso l'ufficio emigrazione e successivamente trasferiti in varie strutture di accoglienza della Sicilia. A seguito di ogni sbarco inoltre i carabinieri hanno effettuato specifici sopralluoghi nelle aree interessate che hanno consentito di rinvenire elementi utili al prosieguo delle indagini per contrastare il fenomeno. I militari hanno agito anche sotto il profilo investigativo effettuando recentemente a Ribera due arresti a carico di altrettanti individui ritenuti responsabili di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e un arresto ad Agrigento nei confronti di un tunisino. Questo, già espulso in precedenza dal territorio nazionale, ne ha fatto rientro. Tutti gli altri migranti rintracciati sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per ingresso illegale nel territorio dello Stato.